Decine e decine di perquisizioni, una settantina di persone indagate, 12 aziende coinvolte e 9 medici arrestati in uno scandalo di mala sanità fino ad ora inedito che getta nella bufera il Policlinico di Modena. Era proprio nell'ospedale della città emiliana che si eseguivano esperimenti su pazienti assolutamente ignari, più di 60, quelli per il momento accertati, con dispositivi medici di infima qualità ed eseguiti fuori da ogni autorizzazione. Stiamo facendo una serie di verifiche su questo, diciamo che quello che abbiamo acclarato è che venivano fatte queste forme di sperimentazione, ripeto, ad insaputa dei pazienti, poi verificheremo le eventuali ulteriori conseguenze a carico di questi pazienti. I medici che effettuavano queste sperimentazioni legali attraverso l'utilizzo di presidi medici fuori legge, spesso forniti dalle stesse aziende implicate nella vicenda, pubblicavano poi articoli su riviste specializzate incassando denaro attraverso onlus fittizie. Nove i cardiologi del Policlinico di Modena finite in manette, ma solo uno di loro era ancora attualmente in servizio, gli altri non più, ma tra questi spiccano nomi importanti della sanità modenese ed il recente passato del Policlinico come quello di Maria Grazia Modena, all'epoca dei fatti medico responsabile della struttura complessa di cardiologia, e quello dell'ex direttore dell'unità di emodinamica Giuseppe Sangiorgi. Proprio Sangiorgi, l'unico finito effettivamente in carcere, secondo gli inquirenti era il cardine e la mente dell'organizzazione. Le aziende coinvolte infatti elargivano donazioni anche sui conti correnti relativi proprio a Sangiorgi, oltre che su quelli delle tre onlus. Per gli indagati e per gli arrestati le accuse parlano a vario titolo, di peculato, corruzione, falso in atto pubblico, truffa ai danni del servizio sanitario, esperimentazioni cliniche senza autorizzazione, accuse che potrebbero ancora aggravarsi visto che le indagini proseguono, e sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri ci sarebbero anche due morti sospette avvenute al Policlinico di Modena, proprio nel periodo in cui operavano i medici coinvolti.